cari amici di visione tv benvenuti ad un nostro nuovo approfondimento il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi è tornato franco fracassi ciao franco ciao ciao a tutti ecco come sanno quelli che ci seguono non c'è argomento recente o meno recente che non abbia interessato franco fracassi al punto da scrivere un libro ecco non poteva essere così anche sull'afghanistan guardiamo il lavoro che ha preparato il libro che ha preparato franco tempo fa eccolo qui missione oppio afghanistan cronache retroscena di una guerra persa in partenza ecco scritto insieme a giorgia pietro paoli franco sei stato profetico anche in questo beh non è che ci voleva molto perché in sostanza il nostre le truppe della nato non hanno nemmeno mai provato a vincere la guerra si pensa che si che l'intero pianeta è sceso in guerra contro un gruppo di pecorai e dopo vent'anni pecorai ancora controllavano 80 per cento del paese quindi sostanzialmente non ci hanno mai provato ma non era loro intenzione loro avevano bisogno di conquistare l'afghanistan perché avevano bisogno di una serie di cose ovviamente stiamo mandando in sovraimpressione una serie di immagini di alcuni tuoi documentari ecco questo qui penso che sia afghanistan che racconta parte dagli attentati dell'11 settembre poi sviluppa una trama esattamente spiegare pure di che si tratta franco è un'inchiesta sulla guerra sulle ragioni della guerra e su perché questo film è stato fatto qualche anno fa su perché dopo tantissimi anni la guerra non era stata vinta che non aveva senso cioè una guerra del genere sarebbe dovuta vincere in una settimana dato la sproporzione delle forze invece così non è stato la guerra doveva durare perché lo scopo non era fare la guerra lo scopo era che la guerra ci fosse e che si innestassero una serie di meccanismi e uno dei meccanismi più importanti è quello della produzione dell'oppio che era per fortuna diciamo i talebani hanno fatto sono dei personaggi orribili una cosa giusta l'avevano fatta ed era quella del sradicamento totale del produzione di oppio in afghanistan nel 2001 l'afghanistan non si produceva un solo grammo di oppio arrivano arriva la nato arrivano gli stati uniti arrivano noi dell'occidente e l'oppio si riprende a produrre in quantità sempre maggiori oggi il 70 per cento della droga nel mondo viene dall'afghanistan e non è che viene l'afghanistan perché viene prodotta segretamente o perché viene diciamo smerciata segretamente l'afghanistan perché viene prodotta nelle zone dove si trovano le nostre truppe quindi non il 70 80 per cento del paese controllato dalle tribù locali che noi chiamiamo talebani o da talebani stessi ma viene prodotta nel 20 30 per cento controllato dai truppe della nato e viene portato fuori ovviamente anche da loro perché sono loro che la gestiscono una droga senti franco apposta appena vinta la guerra che poi una guerra pure strana è stato imposto al potere lì karzai che aveva un fratello magari narcotrafficante se non ricordo male che figura era karzai diciamo che il fratello narcotrafficante ha dato una mano ma karzai era soprattutto un'altra figura cioè karzai era l'unico afgano che all'epoca l'amministrazione bush perché sono loro che hanno invaso l'afghanistan aveva tra le mani karzai era in un diciamo funzionario nemmeno troppo brillante di una multinazionale con seda houston che si chiamava enron e che era una multinazionale molto vicina alla famiglia bush e hanno pensato bene giustamente la loro mentalità invadiamo l'afghanistan e mettiamo quest'uomo perché è un afgano effettivamente era di origine afghana lo mettiamo come presidente fatto sta che karzai erano credo 30 anni che non mettesse piedi nel paese conosceva probabilmente conosco molto meglio io l'afghanistan di karzai insomma forse ne parlava a malapena la lingua e insomma hanno messo quest'uomo e quest'uomo si è portato presso i suoi sgherri corrotti e ovviamente non sono stati in grado di gestire nulla karzai veniva soprannominato il sindaco di kabul anche se è stato per fino a poco tempo fa presidente dell'afghanistan apparentemente democraticamente eletto ecco karzai era un uomo corrotto era un uomo che doveva gestire il traffico di droga era un uomo che doveva in qualche modo garantire secondo la mentalità americana un minimo di dialogo con le tribù e con i talebani cosa che non ha fatto mai perché non era in grado era un uomo legato al a un certo diciamo gruppo di potere degli stati uniti e questo diciamo il suo pregio principale senti franco cominciamo dall'inizio da quelli strani attentati dell'undici settembre ora pure travaglio si è svegliato stamattina con vent'anni di ritardo dice che forse la narrazione ufficiale non torna tanto ecco però lui ai suoi tempi insomma ci è arrivato tutti non ognuno matura con i suoi tempi non è il caso di criticare però diciamo qualche qualche incongruenza la notano persino gli eterei giornalisti del mainstream cioè il fatto che gli attentatori fossero tutti sauditi però hanno aggredito afghanistan e iraq che invece non esportavano terroristi almeno secondo la narrazione che hanno costruito che hanno costruito loro karzai mi pare che dichiarò tempo fa che al cheda non sapeva cosa fosse cioè cos'è stato un'altra costruzione mediatica al cheda un po come la pandemia di oggi ecco la la vecchia pandemia al cane su questo avrei tanto da parlare peraltro magari lo faremo anche in un'altra occasione perché sono in uscita due libri e 2 immaginavo che figure se ti facevi perdere l'occasione di scrivere una cosa sei sempre positivo dalla scrittura di questo al che al caida è un è un'organizzazione creata dal dal servizio di reddito britannica l'MI6 e da diciamo dalla classe dirigente britannica questa cosa mi è stata raccontata e confermata al ministro degli esteri del regno unito quindi non da uno qualsiasi non da un passante ma il ministro degli esteri del regno unito mi ha mostrato le carte mi ha raccontato questa storia quindi sa creata da loro ed era sostanzialmente nella storia è stata definita veniva soprannominata al caida si traduce in arabo la base e mentre in realtà non raccontano tutto perché al caida era solo la prima parte della frase perché la frase completa sarebbe al caida ma matta e la frase completa vuol dire il data base è una cosa differente dalla base il data base perché perché era un data base era un un elenco infinito di persone che potevano essere utilizzate alla bisogna per fare qua per fare qualcosa insomma per magari uccidere qualcuno fare qualche strage rapire o fare dei video che potevano spaventare tante persone cosa questo era sostanzialmente al caida senti franco quindi diciamo al caida è stata una costruzione più mediatica diciamo che che effettiva però questa costruzione per quanto fasulla per quanto costruita in maniera grossolana ha attenuto c'è stata anche in inghilterra una commissione d'inchiesta che ha messo mi pare di sir kilkut che ha messo nei guai blair però di fatto questa gente continua oggi a dare lezioni di democrazia in giro per il mondo cioè perché non le pubbliche opinioni occidentali non riescono a chiedere conto effettivamente a questa oligarchia dell'atrocità commessa perché non ha non esiste una narrazione diversa cioè questo sanno e questo pensano le persone sostanzialmente quindi non è non puoi pretendere una ribellione da parte di chi si trova l'ignoranza in qualche modo dopodiché se per esempio i giornali le televisioni oggi mentre sta accadendo quello che sta accadendo in afghanistan raccontassero che l'invasione afghana non ha nulla a che vedere con l'undi settembre perché era stata stabilita e qui ci sono i documenti ci sono decine centinaia di documenti che testimoniano questo e contanto di firma dei protagonisti del fatto che l'invasione è stata progettata circa un anno prima un anno prima l'undi settembre quindi ovviamente non può avere nessun legame sull'undi settembre a meno che non sono le stesse persone aver organizzato l'invasione e l'undi settembre ma io non sto dicendo questo e quindi non capisci bene che se un'invasione viene organizzata un anno prima e un mese prima viene cercato di diciamo di viene l'amministrazione bush fa saltare improvvisamente le trattative con i talebani perché l'amministrazione bush era in trattativa con i talebani e fa saltare improvvisamente non perché c'era solo l'undi settembre perché era ancora prima dell'undi settembre ma per altri motivi semplicemente perché doveva era diciamo il segnale che poi sarebbe ci sarebbe stata la guerra e beh allora la diciamo l'impressione che uno ha incomincia a essere molto diversa da quella che hanno comunemente le persone senti franco ci hanno spiegato all'epoca che queste guerre servivano per esportare la democrazia in tutto il mondo enduring freedom libertà duratura dicevano il duo bush blair a distanza di vent'anni non mi pare che l'afghanistan assomigli alla svezia nell'iraq alla norvegia ma ci hanno provato almeno ad esportare la democrazia o era solo la solita narrazione fasulla retorica falsa fino al midollo cioè hanno provato solo a cosa sono andate a fare lì ci hanno detto che sono andato esportare la democrazia ma in realtà che cosa sono andate a fare per davvero in afghanistan e in iraq allora parlo dell'afghanistan per il momento è l'afghanistan e noi italiani tanto per fare un esempio abbiamo che l'italia investito 300 milioni di euro all'anno per l'afghanistan quindi immaginate dopo vent'anni quanti soldi lo stato italiano ha messo per la questione afghana e poi a questo ci vanno la francia la germania il regno unito gli stati uniti e tutti quanti altri paesi una quantità di soldi mostruosa per un paese che ha un pil di pochi miliardi di dollari all'anno che una cosa del genere doveva trasformare il paese allora io uno dei due film che ho realizzato che si chiama blue ghost cioè i fantasmi azzurri parla delle donne e parla della democrazia cioè quello che esattamente per rispondere alla domanda che mi ha appena fatto e tutto questo sforzo mostruoso ha prodotto un topolino nel senso qualcosa è successo ma è successo primo esclusivamente all'interno delle città che l'afghanistan è a un territorio prevalentemente montuoso è un territorio dove ci sono migliaia di villaggi sparsi dove vive oltre 80 per cento della popolazione la minoranza della popolazione vive in poche città e nemmeno troppo popolose a kabul che la più grande di tutte ha circa 2 milioni di abitanti allora le queste diciamo questi investimenti non hanno minimamente toccato le campagne non hanno minimamente toccato i villaggi circostanti diciamo la le città e quindi gran parte della popolazione non è stata per nulla toccata da questi di cui da questo investimento in democrazia e quindi già questo è un limite gigantesco dopodiché c'è quello che è accaduto nelle città allora in alcune città effettivamente facciamo esempio di kabul in kabul c'era un'università un'università frequentata da migliaia di studenti da molte migliaia di studenti la maggior parte di questi erano donne a herat c'era una radio fatta da donne per le donne che denunciava la violenza degli uomini che lì e diciamo potrei immaginare fosse molto frequente quindi ho fatto due esempi insomma ma ce ne sono molti questi esempi sono sorti sono sviluppati io quando sono andato a girare i due film documentari due le due inchieste che ho fatto sul campo le immagini me l'ha girata una cameraman afghana che una cosa già di per sé potrebbe essere una notizia ma ci sono tanti singoli esempi virtuosi ma quando tu investi diciamo facendo un calcolo approssimativo sicuramente più di cento miliardi di dollari per trasformare un paese poverissimo quindi bastano pochissimi soldi per ottenere qualche cosa in vent'anni e per portare democrazia per per diciamo dare maggiore emancipazione alle donne e ottieni qualche migliaio di studentesse all'università una radio un qualche qualche donna che lavora nel mondo del cinema il prefetto di erat che era una donna e poche altre cose sparse vuol dire che hai buttato i tuoi soldi sostanzialmente la maggior parte di questi soldi sono finiti nelle tasche di karzai che era uno corrottissimo le tasche di degli altri del suo governo nelle tasche dei dei diciamo dei dei di molti molti capi tribù locali dice perché finirono le tasche di capi tribù locali perché nei loro villaggi succedeva qualche cosa no perché questi capi tribù gestivano la produzione di oppio e quindi erano funzionali questi soldi erano funzionali alla produzione di oppio ecco diciamo che come se la si vede dal punto di vista positivo abbiamo buttato un sacco di soldi che franco questo momento veramente buttati perché adesso sono tornati talebani quindi tutto quello che stava fatto verrà zerato completamente ecco franco però se dopo vent'anni di occupazione militare degli americani che in alcuni frangenti specie con obama si sono rivelati li più feroci più assassini dei talebani stessi ricordiamo le immagini di feste di matrimonio dove gli invitati morivano perché qualche drone sganciava delle bombe sulla base di chissà quale tipo di ragionamento che faceva l'intelligenza americana cioè è possibile in realtà che i veri barbari siamo noi cioè che sono gli americani e gli occidentali non sono scappati da lì dopo vent'anni di occupazione perché in realtà il popolo non ci riconosce migliore dei vecchi governanti è sicuramente possibile perché noi in realtà gli occidentali non avevano istituito un grande rapporto con gli afghani io il paese me lo sono girato abbastanza ma sono girato non embedded cioè come fanno i soliti giornalisti cioè al seguito dei militari quindi non vedono nulla ma sono girato per conto mio andando anche ospite da molti afghani che per cui per in questo momento peraltro ho il mio cuore in qualche modo trema sanguina perché queste persone che sono gentilissime e meravigliose nei miei confronti ovviamente temo rischino tantissimo in questo istante allora girando l'afghanistan ci si rendeva conto di quanto noi fossimo degli alieni cioè noi siamo arrivati lì non cercando di trasformare una società in maniera facendola trasformare dal di dentro noi siamo arrivati lì dicendo noi siamo i più forti noi siamo i più fighi noi siamo noi siamo quelli bravi e intelligenti dei cretini quindi gli spieghiamo come dovete vivere se non lo capite rapidamente vi spariamo questa è sostanzialmente la cosa e ovviamente questo ha fatto sì che l'80 per cento del territorio 70 80 per cento del territorio afghano non è stato mai proprio mai controllato dalle truppe della nato perché non c'è stato nessun dialogo se non quello puramente affaristico riguardante la droga tra noi occidente e il popolo afgano senti franco ma lo stesso tipo di atteggiamento come dire poco empatico con gli abitanti del luogo l'abbiamo avuto non solo in afghanistan ma anche in iraq tu ricorderai malden albright quando disse ad una giornalista che uccidere tramite l'embargo 500 mila iracheni era un prezzo corretto rispetto agli obiettivi che stavamo inseguendo ora tu immagina se lo dicesse un talebano che vuole uccidere 500 mila bambini occidentali quali sarebbero i titoli dei nostri giornali insomma franco detta detto chiaro chiaro dopo vent'anni e comentre vent'anni fa il talebano sembrava chiaramente un mostro vicino a tipi come bush o blair oggi un talebano vicino a gente come bush o blair non sembra quasi diciamo un'animella cioè i mostri non sono loro diciamo obiettivamente sono perfettamente d'accordo i mostri non sono loro e la loro sono casomai gli esecutori materiali allora chiediamo chi sono i talebani talebani sono prevalentemente pakistani anzi sono cittadini pakistani molti di questi non sono afghani sono cittadini pakistani molti di questi sono figli di diciamo profughi afghani finiti in pakistan a causa delle guerre precedenti e molti invece sono direttamente pakistani allora questi pakistani sono stati istruiti e stati letteralmente lobotomizzati in scuole si chiamano talebani dalla parola taleb che in arabo dire studente questi studenti sono stati istruiti in scuole non scuole normali ma scuole coraniche in cui si insegna il wahabismo che l'islam più estremo che possa esistere quello dei fanatici più fanatici del mondo che è la religione propugnata dai sauditi queste scuole sono state finanziate sauditi e sono e i sauditi stanno hanno cercato in tutti i modi di trasformare l'intero sistema scolastico non ci sono riusciti per fortuna intero sistema scolastico pakistano in scuole del genere allora questi milioni oramai dopo tantissimi anni milioni di bambini che sono diventati adulti sono la carne da macello dopodiché chi li dirige allora li dirige i servizi segreti pakistani che sono coloro che materialmente gestiscono i talebani sono i generali occulti dei talebani i servizi segreti pakistani sottolineo sono una sorta di di appendice della scia dopodiché li gestiscono i servizi segreti sauditi che li finanziano l'arabbia saudita è il soggetto che è statale che più di tutti ha finanziato i talebani quindi il famoso governo altamente democratico è stato detto recentemente insomma a proposito dell'arabbia saudita è quella che sponsorizza principalmente talebani dopodiché mi racconto questo piccolo particolare per farvi capire anche che cosa sempre che cosa sono i talebani non so se ancora oggi ma nel nel 2001 quindi diciamo dagli anni 90 fine anni 80 quando sono iniziati a nascere i talebani fino al 2001 i talebani che non erano riconosciuti dalle nazioni unite non erano riconosciuti dal governo degli stati uniti ufficialmente avevano una lobby registrata presso il congresso del di washington una lobby registrata perché faceva gli interessi dei talebani cioè un gruppo e uno stato non non riconosciuto da quel paese allora questa lobby registrata non è non è fia qui aveva la cosa più secondo me sorprendente e che il il responsabile di questa lobby anzi la responsabile di questa lobby era la figlia di quello che di quello che è stato uno dei più potenti direttori della scia della storia la figlia di potenti direttori della storia era la lobbista dei talebani e come si chiamava questo uomo dei servizi sto cercando perché sennò vi avrete detto il nome vabbè lo cerchiamo poi dopo appena mi viene in mente il nome ve lo dico e allora per dirvi per dirvi e chi erano chi erano costoro e chi sono costoro perché il capo dei talebani l'attuale quello che finì quello che sta sempre in televisione che fa le dichiarazioni eccetera eccetera il capo dei talebani stava nelle prigioni pakistane fino a poco tempo fa non sta più nelle prigioni pakistane perché c'è stato un ordine arrivato dalla casa bianca scusate lo dico ma tutti i presidenti che hanno seduto nella stanza ovale sono tutti uguali alla fine perché all'epoca che quest'ordine arrivò da donald trump e trump disse dovete liberarlo come dovete liberarlo il capo dei talebani si dovete liberarlo perché perché dal da mi pare due o tre anni a questa parte gli stati uniti america hanno costruito un tavolo di trattative con i talebani a doha e diciamo la liberazione del capo dei talebani era funzionale a questa quindi gli stati uniti sono diciamo i protettori del capo dei talebani che una cosa bizzarra quanto meno allora si diceva che lo fossero pure di al bagdadi con mccain che nel capo dell'isis quindi forse tanto bizzarra non è lo so però diciamo che per quello che ci viene raccontato in televisione quanto meno una cosa bizzarra no ci sono questi assassini che sono protetti cioè il capo degli assassini è un protege del governo degli stati uniti che capisci che è una cosa dissonante rispetto alla narrazione ufficiale allora e questi hanno trattato c'è quello che sta succedendo adesso non è improvvisamente talebani hanno deciso di invadere perché sono così no è stata una cosa frutto di lunghe 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 discussioni durate anni tra il governo degli stati uniti e diciamo i rappresentanti ai talebani allora gli stati uniti hanno ceduto ai talebani l'afghanistan quindi gli hanno fatto hanno fatto un enorme concessione no il perché gli hanno concesso gli stati uniti non è che loro sono preso gli hanno concesso gli stati uniti allora quello che mi chiedo cosa hanno concesso i talebani agli stati uniti perché gli stati uniti concedono una cosa così enorme qualcosa dovranno ottenere in cambio allora su questo non ho prove ma qualche sospetto ce l'ho perché una delle cose che ho ricordato anche te quel libro missione oppio che un'inchiesta sull'oppio da quella cosa è emersa una verità molto semplice allora dicevo l'oppio è appreso piede in afghanistan con l'arrivo delle della nato e in particolare nelle zone controllate agli stati uniti america militari americani allora quest'oppio veniva gestito e smerciato in due direzioni la prima è quella banale tutte ovvero consegnato la criminalità organizzata nella fattispecie l'andrangheta cioè l'andrangheta nostrana era quella che direttamente gestiva l'oppio questa massa enorme di droga che arrivava dall'afghanistan però non è che l'andrangheta se l'andava a prendere in afghanistan perché non c'entrava l'andrangheta in afghanistan quindi questo questa droga veniva trasportata via dall'afghanistan come non è che uno entra e esce da una zona di guerra così facilmente in un paese così remoto con accanto l'iran che non è un paese molto diciamo affidabile per loro eccetera eccetera allora come veniva trasportato via aerea e anche lì non volano gli aerei dall'afghanistan così volano solamente alcuni tipi di aerei cioè gli aerei militari allora la droga veniva caricata su aerei cargo della nato sottolineo aerei cargo della nato e veniva trasportata da questi aerei cargo della nato in una base che si trova in kosovo e laggiù la nato la consegnava all'andrangheta con cui aveva fatto un accordo secondo uscita diciamo della droga ovvero la droga serve sia per per drogarsi ma serve anche e materia prima per una quantità esagerata di medicinali principalmente tanto faccio alcuni esempi medicinali che curano la tosse i medicinali che curano alcune malattie respiratorie i medicinali che curano tutti i traumi di qualsiasi genere dalle creme alle pillole e così via quelli che leniscono il dolore è pieno di medicinali nella classifica dei 100 medicinali più venduti del mondo almeno una quarantina sono medicinali a base di oppiacei allora questi medicinali che hanno avuto un boom dopo la nostra invasione in afghanistan vengono prodotti da big pharma le principali case farmaceutiche e dove pensate che prendessero l'oppio queste case farmaceutiche visto che veniva prodotto esclusivamente in afghanistan dall'afghanistan quindi in qualche modo queste case farmaceutiche dovevano acquistare da questi diciamo che noi chiamiamo talebani la droga e lo facevano attraverso i generali della nato che andavano nei vari capi villaggio a dire a trattare il loro mestiere da questo non è quello di combattere o di proteggere è quello di trattare con i capi villaggio le partite di droga e allora questo affare gigantesco stiamo parlando rivolgendo le case farmaceutiche di decine e centinaia di miliardi l'anno e dipendeva da quella guerra e dipendeva dal loro rapporto che avevano con i talebani intanto l'altro soggetto che ha finanziato e arricchito oltre misura perché sono ricchissimi talebani e sono le case farmaceutiche cioè big pharma quelle che noi stiamo contestando o comunque ne stiamo parlando molto in questo anno e mezzo di pandemia big pharma è il principale investitore privato finanziatore privato dei talebani secondo poi il sospetto che ho io è che in cambio della diciamo della consegna dell'afghanistan delle mani talebani c'è stato un'assicurazione da parte dei talebani che nulla sarebbe cambiato per quanto riguarda la gestione dell'oppio sia come droga sia come materiale primo per le medicine interessante questo che dici quindi big pharma è fra i principali finanziatori dei talebani insomma buono a sapersi ecco anche se li abbiamo visti tutti senza mascherine state attenti perché questi di big pharma vi mandano il green pass ecco magari al posto del coran pass ve lo fanno arrivare in freddo quindi fate attenzione non si scherzi con bill gates senti franco chiudiamo questa intervista cercando di capire in conclusione perché è capitato adesso tutto questo cioè perché c'è stata questa improvvisa accelerazione non si parlava di afghanistan era rimasto lì in un angolino della memoria collettiva quel luogo sperduto a meno dove eravamo andati a portare la bellezza della democrazia occidentale 20 anni fa ora all'improvviso invece è tornato improvvisamente d'attualità se ne sono andati via da un giorno all'altro e la faccenda è tornata improvvisamente importante si perdono i paragoni con l'esempio del vietnam con la nuova saigon eccetera eccetera vorrei poi chiederti inoltre come cambia la geopolitica della regione c'è chi dice che se ne avvantaggerà la cina che adesso metterà le mani sull'ingenti risorse minerarie del paese che i russi hanno cominciato a fare l'occhiolino ai talebani insomma che in realtà l'occidente si ritira e quel mondo inizia a rimodellarsi intorno al predominio cinese perché adesso e cosa può succedere adesso allora perché adesso perché sono passati vent'anni perché c'è l'anniversario dell'undici settembre perché biden vuole in qualche modo sfruttare l'undici settembre in qualche modo e mettere solo anche alle spalle mettiamola così e per andare oltre perché oggi c'è la pandemia non serve più l'undici settembre e e perché in qualche modo per gli stati uniti non cambia sostanzialmente nulla allora come cambierà la geopolitica secondo me non cambierà nulla nel senso che la i talebani sono roba dell'occidente non è roba cinese insomma se i cinesi trattano con i talebani se gli stati uniti vogliono che i cinesi trattano con i talebani i russi trattano con i talebani se gli stati uniti vogliono che i russi trattino con i talebani ovviamente non essendoci più fisicamente tutte quante le truppe alcune cose sono un po più semplici e i russi ci stanno provando non è che i russi stanno provando improvvisamente oddio i russi trattano i talebani i talebani è roba nostra quindi dovremmo vergognarci innanzitutto noi prima di accusare i russi e i cinesi di voler fare affare con i talebani e poi non si capisce i cinesi che tipo di affari possano fare con i talebani ma al di là della droga ma detto questo l'afghanistan forse l'unica cosa che cambierà è una cosa molto particolare perché si è non se ne è parlato mai ma una cosa di cui mi sono reso conto facendo le inchieste facendo i film i libri insomma sull'afghanistan è che l'afghanistan è il luogo di guerra diciamo il teatro scelto per la guerra per procura da tantissimi paesi del mondo mi spiego meglio india e pakistan sono due paesi nemici sono fatti ben tre guerre l'uno con l'altro ciascuno di due possiede l'arma nucleare perché minaccia di tirarla sull'altro a un certo punto india e pakistan hanno smesso di farsi guerra non perché sono diventati amici semplicemente perché iniziata la guerra in afghanistan cioè la guerra quella del 2001 in poi se l'india doveva compiere un atto militare nei confronti del pakistan lo faceva in afghanistan mi faceva che ne so salta faceva saltare un bar frequentato dai servizi di pakistani è un atto di guerra nei confronti del pakistan e dopo di che il pakistan faceva saltare in aria la scuola degli indiani cose tutte cose tutti attentati attribuiti ai talebani che non c'entravano un ben amato fico secco gli stati uniti e il regno unito per gli stati uniti regno unito grandi amici si sono fatti la guerra in afghanistan si sono fatti la guerra non ovviamente i soldati inglesi hanno sparato da quelli americani o viceversa manco per sogno gli americani pagavano tribù afghane per sparare agli inglesi gli inglesi spagavano tribù afghane per sparare agli americani e così via c'è il luogo di della resa dei conti della diplomazia mondiale allora questa cosa qui che è mostruosa aberrante assurda e non sarà più possibile o forse sarà possibile un'altra modalità che io in questo momento a me non vengono in mente questo cambierà sicuramente senti franco per chiudere davvero tu all'inizio di questa intervista hai detto ma al che dalla fine è stato un prodotto dei servizi segreti inglesi questi servizi segreti inglesi hanno il vizio di costruire dei fenomeni più o meno truci non solo in afghanistan ma anche in giro per l'europa ad esempio in italia c'è qualche proiezione diciamo attiva che in realtà nasce dentro quel cappello che tu sai e qui sono tutt'altri temi insomma c'è i servizi che gli inglesi hanno la loro mano nel nostro terrorismo rosso e nero hanno la loro mano nei rapporti con la mafia insomma si aprirebbe un mondo un altro mondo di cui se vuoi parliamo un'altra volta anche perché è un libro ecco allora ci lasciamo con la promessa di approfondire quali diciamo quali mondi vengono accarezzati dalle barbe finte inglesi anche in italia magari anche adesso ecco se tu sai se ci sono se ci sono dei insomma dei disturbatori in giro che sembrano molto potenti contro il sistema molto coraggiosi ecco che magari però hanno un filo diretto con londra mai reciso ecco lo approfondiremo al prossimo passaggio grazie franco posso posso dire un'ultima cosa anche anche altre due è la cosa che dico sempre però è allora io ho fatto due film sul tema di cui si è parlato oggi uno si chiama afghanistan l'altro si chiama blue ghost è un libro che si chiama missione oppio per chi fosse interessato a prenderli visto che l'unico modo non troverete mai da nessuna parte deve scrivermi alla mia email francofrecassi1 a numero chiocciola gmail.com francofrecassi1 chiocciola gmail.com chiunque fosse interessato ai due film e al libro sull'afghanistan per capire effettivamente che cosa è successo che cosa sta accadendo mi scriva alla mia email grazie ancora franco grazie a te ciao bene cari amici di visione tv si conclude qui questo nostro nuovo approfondimento io vi ricordo che visione tv può fare tutto questo soltanto grazie a voi grazie al vostro sostegno questi sono i numeri per effettuare un bonifico in nostro favore potete usare anche paypal oppure andate sul nostro sito www.visionetv.it e abbonatevi bastano anche pochi euro al mese per rendere più solito questo nostro progetto abbiamo bisogno di raggiungere la cifra di 2000 abbonati fissi prima possibile il traguardo non è lontanissimo contiamo sulla vostra generosità e sul vostro sostegno grazie alla prossima